Facebook, voglio salutare Gilberto, Saverio, Michela, Mirella, Gilberto Gasparoni che ci anticipa un importante convegno su manifattura d'eccellenza, il segretario regionale di Confartigianato Imprese e allora grazie davvero a Gilberto, tra poco leggeremo meglio. Ma poi ci sono anche i messaggi Whatsapp, grazie per chi ci saluta, chi ci manda informazioni, chi ci chiede informazioni. Mauri, anche i gabbiani ti guardano e vediamo se possiamo cominciare così, grazie al nostro piccolo grande Thomas, un amico della nostra emittente, un piccino picciò che però cresce anche grazie con noi. Ecco allora, c'è un gabbiano che ci guarda, ci fa piacere. Allora diamo notizie al nostro amico gabbiano, che ribattezziamo gabbiano Jonathan, di gabbiani e di mare, ne parliamo tanto in questi giorni perché la Geobarenz, questa è la notizia di primo piano del nostro sito, torna ad Ancona ad un mese di distanza. Darci questo porto è illegittimo. I responsabili della navigazione attaccano. Riccardo Gatti, in particolare vice responsabile dei soccorsi della nave, è critico circa la nuova assegnazione del porto di Ancona. È troppo distante, è illegittimo, ci sarebbero porti più vicini. Intanto l'arrivo dei migranti porta all'accoglienza, ma anche alla rebus accoglienza. Che cosa ne sarà di questi 48 migranti? Punto di domanda, cercheremo di capirlo da qui a domani. Calzature, perché arriva domani, eh? Il test delle fiere. Ci siamo già tuffati sui giornali, sulle vostre notizie. Dal Micam, a linea pelle, si cercano conferme dopo il boom dei dati sulla crescita dell'export. Il presidente di Confindustria, Luciani, invita a lavorare in rete, così aggrediamo i mercati. Lo storico ex albergo sul Girfalco potrebbe avere presto una assegnazione ufficiale. Casina, ok definitivo alla vendita. Poi scopriremo a chi andrà. Il carnevale a Porto San Giorgio torna dopo due anni. Oggi è giovedì grasso, non ce ne dimentichiamo. E non è uno scherzo, è una notizia che abbiamo ricevuto proprio grazie a voi. Domani ci sarà lo sciopero dell'USB, Unione Sindacale di Base, per cui potrebbero esserci importanti disagi. Per cui quello non è uno scherzo. Lo scherzo oggi sì, vale. Torna il carnevale a Porto San Giorgio dopo due anni. L'UQK in piazza. Se ho sbagliato, correggetemi. A Porto San Tepidio si vota. Corsa ai candidati. Fratelli d'Italia con Ciarpella. Apre ai civici. E poi lo sfogo di allevi. Shock sui social. Come sto? Non bene. Il musicista, compositore di Ascoli, per la prima volta parla della sua malattia. La terapia funziona, ma il mieloma, e questa è la notizia che più di altre ha colpito, ha causato delle fratture. Fratture nel suo corpo, causate dalla severità della malattia. Ci spostiamo al Pesarese, amiche e amici, per parlare anche di basket. La storia del rapporto d'amore tra le marche e il basket è profonda. Ancona, Pesaro, Fabriano, Fermo, Piazze Iesi, piazze storiche di basket. Senigallia, saluto l'amico Paolo Filippetti, allenatore della squadra di Senigallia. Sono diventato tifoso di quella squadra da quando l'allena il coach. Paolo Filippetti, viva il basket di Senigallia. Coppa Italia, la Carpegna vince 84-80. Sabato, in semifinale, trova Brescia. E questo è un grande appuntamento. Speriamo, speriamo che Pesaro comandi ancora, come dice il titolo. Foglia, ponte al primo step. Qui si parla di alluvione. Attenzione, partono i lavori molto attesi. La posa della struttura, però, avverrà solo quest'estate per evitare il rischio di piena. La provincia assume ingegneri e architetti per portare avanti cinque progetti legati ai fondi PNRR. Quindi se conoscete giovani, anche meno giovani, che abbiano nelle mani il mestiere di ingegnere e architetto, sappiate che la provincia di Pesaro, ripeto, la provincia di Pesaro assume la storia brutta, bruttissima, vergognosa, di una sedia brandita contro l'arbitra donna. Sei una donna e per questo non capisci di calcio. Una frase del genere la riporta il giornale, a firma del collega Peppe Gallozzi. Ha sollevato una sedia, brandendola contro l'arbitro donna. A chiunque uno brandisca una sedia, già si dovrebbe prenderne le distanze. Poi le avrebbe rivolto la più scontata insulsa delle offese sessiste. Qualcosa del genere. Sei una donna di pallone, non capisci. Mister Tiziano De Patre ha perso le staffe dopo la sconfitta in casa 3-0 del suo notaresco e si è scagliato, pare, contro la marchigiana Alice Gagliardi, fischietto appunto di San Benedetto del Tronto. Massima solidarietà verso questa arbitro donna. La questione antenne. Abbiamo seguito tanto il caso di Civita Nova Marche, lo ricorderete. Qui siamo a Pesaro. Sul tavolo del comune ci sono 46 nuove richieste di antenne. A Preticello da Pesaro sono arrivate tantissime segnalazioni di preoccupazione e anche di rabbia. cercherò di spiegare di nuovo come funziona la legge in questo senso. Travolta dal treno, muore mentre attraversa i binari. C'è un'immagine che gira sui social, l'ha riportata anche il Corriere Adriatico. Eccola qua, insomma, lascia spazio a poche ulteriori parole. Ve la mostro, ma solo rapidamente. Poi, appunto, anche qui a Levi Shock sui social, come sto, non sto bene. Rubano una carta del reddito di cittadinanza. In due finiscono a processo. Occhio che anche l'Unione Europea sta guardando in cagnesco verso il reddito di cittadinanza che già in Italia viene depotenziato, se non addirittura stralciato da agosto. Anche però l'assegno unico è nel mirino dell'Unione Europea perché non sarebbe legittimo rispetto a chi non faccia parte del nostro paese. Cioè ci sono dei limiti per essere insigniti dell'assegno unico, ad esempio avere la cittadinanza italiana. Allora viene considerata una sorta, l'assegno unico per chi abbia figli, una sorta di aiuto in debito. È bellissima l'Unione Europea, è meravigliosa. Anche questa non è male, sempre sul fronte di chi dice ma bisogna guardare alle famiglie, aiutare le famiglie, sono il nostro futuro. Poi però, quando c'è un'agevolazione sull'attari alle famiglie numerose, siamo a San Benedetto, che succede? L'opposizione all'attacco. No, non va bene perché è stato ignorato il reddito ISEE. L'assessore Pelle risponde, ho seguito l'esempio di Milano. A Milano fan così, alcuni consiglieri però dicono no all'aiuto alle famiglie numerose perché viene dato senza considerare il tema ISEE. Lo scontro emerso in Commissione Bilancio, la delibera non ha senso. Aiutare quindi le famiglie in questo modo non avrebbe senso. Vediamo, questa è una serie di prime notizie che trovate sui giornali, un po' di Pesaro, un po' di Ascoli, un po' di Civitanova. Vi porto nel frattempo anche un po' per ingentilire il cuore. Andiamo al meteo, perché questo è un tema che riguarda tutti noi. Giovedì 16, che cosa ci dobbiamo aspettare? Se vi trovaste con la testa che scoppia, con un po' di malessere, un po' di fiacchezza, ma perché? Oggi mi sento stanco, ma molto dipende anche dal brusco ricambio delle temperature. Perché se una settimana fa avevamo temperature attorno massime, intendo, attorno a 4, 4, 5, 6 gradi, oggi a metà giornata avremo temperature sui 14, 15 gradi, 10 gradi di più di una settimana fa. Immaginate per la natura che effetto faccia questo, come potete vedere anche un po' dalle mie reazioni fisiche, con la natura che impazzisce, che fiorisce come se fosse primavera, maledetta primavera. Io mi commuovo, è allergia, ma mi piace simbolicamente dire, mi commuovo quando arriva la primavera, mi goccia tutto qua. È per questo motivo, perché ci sono temperature massime che spingono la natura a fiorire. Quando mi fai 15 gradi a metà giornata, le minime però saranno molto rigide, quindi il rischio è che i germogli poi vengano bruciati dal freddo. E non è un tema su cui si possa scherzare. Anche domani la situazione sarà questa, eppure sabato e domenica. Vediamo un po', oggi è giovedì grasso, lo ricordiamo, c'è chi già ci manda delle mascherine, le mostreremo. Sabato 18, stessa situazione, temperature massime sui 14 gradi, domenica 19, idem con patate forse leggermente più basse le temperature massime nella zona di Macerata e fermo, ma la ciccia, la sostanza, resta quella là. Torniamo alle nostre notizie, tra poco approfondirò il tema dello sciopero domani, sciopero nel trasporto pubblico, ma una delle notizie che più vi sta facendo discutere è questa qua. Di nuovo la Geobarens a Dancona è tornata, ma perché c'è stata solo un mese fa, che fine fanno questi qua, chi li accoglie, come li accoglie, tenetevi lì a casa vostra e amenità del genere. Su questo fronte intanto sentiamo. Qua a bordo della nave Geobarens abbiamo avvistato dalla polancia di comando un'embarcazione in una situazione molto critica. Abbiamo lanciato perciò subito un'operazione di soccorso e siamo riusciti a soccorrere tutte le persone che viaggiavano a bordo del barcone. Adesso a bordo con noi abbiamo 48 persone, tra loro 9 minori non accompagnati. Subito dopo abbiamo ricevuto l'indicazione dalle autorità italiane, da Roma, di procedere verso un porto lontanissimo, lontanissimo dalla zona in cui noi ci trovavamo, il porto di Ancona. Evidentemente, ben sapendo che ciò è totalmente illegittimo, siamo obbligati a procedere verso questo porto, anche se vi sono porti molto più vicini, porti siciliani, a cui potremmo arrivare subito, domani stesso. Ecco, ciò mostra un'altra volta che le normative internazionali e il diritto marittimo in materia di salvaguardia della vita umana al mare non è rispettato da parte delle autorità di uno Stato membro dell'Unione Europea e, ancora più, mostra un'altra volta che il benessere e i diritti delle persone che vengono soccorse in mare non vengono per niente rispettati. Questo è quello che stanno dicendo dalla nave, neanche coloro che sono nella nave, coloro che sono irresponsabili dell'imbarcazione accettano di buon grado lo sbarco di Ancona, ma la nostra città, il nostro capoluogo regionale farà la propria parte, come sempre. È Basilio da Cingoli che ci scrive quel messaggio molto simpatico, la differenza tra questa rassegna stampa ed altri programmi in generale, proprio che siete voi a partecipare, a darci notizie, a chiederci informazioni. Mi dice Basilio da Cingoli, mi dice Massimo, va bene, anche Massimo sarebbe stato un bel nome. Complimenti stamattina però mi sono impressionato, ma chi ti ha smoccecato li capigli? T'ho riconosciuto dagli straccali, ma gli straccali sarebbero appunto le bretelle. Grazie a Basilio di Cingoli che ci scrive questo bel messaggio. Buongiorno a tutti, meglio la primavera. Il 21 di marzo arriverà la primavera, ma di fatto con queste temperature sarà come se l'avessimo già assaggiata. 3493989. Do un attimo un'occhiata per completare il quadro del giornale su Ascoli e San Benedetto a questi titoli. Cinque varchi in centro ad Ascoli. Le nuove ZTL e gli occhi elettronici hanno lo scopo di ridurre il traffico caotico per i cantieri. Palazzo Rengo stila la mappa delle vie dove si potrà transitare solamente a fasce orarie. Il dramma di Giovanni Allevi lo stiamo raccontando da questa mattina perché ha parlato della sua malattia ieri. Il mieloma mi ha causato delle fratture, gli siamo assolutamente vicini, non vediamo l'ora che possa tornare serenamente su un palcoscenico. Fuga di gas all'asilo. Sindaco e parroco rinviati a giudizio. Questa merita un approfondimento immediato perché davvero vogliamo vederci chiaro anche noi. La notizia la trovate a pagina 11, che viene da Comunanza in provincia di Ascoli Piceno. Ecco l'articolo che vogliamo approfondire con voi. Fuga di monossido di carbonio all'asilo. Il monossido di carbonio è pericolosissimo perché è invisibile, è incolore, è inodore e può causare, ahimè, la morte. Il sindaco e il parroco rinviati a giudizio. L'immobile utilizzato provvisoriamente non avrebbe avuto tutta la documentazione in regola. Eccolo l'edificio che ospitava temporaneamente l'asilo. Siamo a Comunanza. Si va a processo per la vicenda della fuga di monossido di carbonio derivante dall'impianto di riscaldamento che il 7 gennaio 21 aveva invaso il locale che ospitava temporaneamente una classe di 19 bambini dell'asilo. Alcuni bambini e un'insegnante avevano avuto dei malori ed erano stati portati per fortuna prontamente all'ospedale, mentre altri avevano accusato altri malesseri. Per la vicenda sono stati ora rinviati a giudizio il sindaco di Comunanza Alvaro Cesaroni per il suo ruolo di amministrativo e il parroco Don Luca Rammella come legale rappresentante della confraternita Compagnia del Santissimo Sacramento che era proprietaria dell'immobile. 19 bambini hanno rischiato la vita in questo luogo. Per fortuna non è andata nel peggiore dei modi, ma certamente la giustizia vuole fare il suo corso. Ci spostiamo ad Ancona e allora via le auto davanti alle muse. Sono giorni di grande riflessione sul futuro del capoluogo. Alle viste c'è una tornata elettorale molto molto importante. Allora la comunità si sta interrogando su come rilanciare il centro cittadino. Per esempio con giochi d'acqua in corso Garibaldi, per esempio con il mercato delle erbe che può diventare cuore pulsante della Movida. In taglio centrale cosa ne pensate? Fateci sapere 349 39 18 169. In taglio centrale bus ecologici pronti 22 milioni di euro. Divieto dei mezzi inquinanti. Ancona gioca d'anticipo. Il divieto dei mezzi inquinanti l'ha imposto l'Unione Europea. Ricordiamo, ne abbiamo parlato ieri dal 2035. A proposito di bus, ricordo domani sciopero indetto da USB. Tra poco vi riepilogo anche gli orari, ma anche le fasce di compensazione, cioè quelle fasce dove pur stante lo sciopero c'è comunque l'autobus. Tra poco domani di venerdì 17 lo sciopero. Migranti in arrivo, ma nelle marche non c'è posto per tutti. Questo è il giornale. Il Salasso gita a scuola costi fino a 800 euro e allora bisogna rinunciare, bisogna cambiare mete. 800 euro è una cifra che è venuta fuori dall'analisi di una gita del Savoia Benincasa in Andalusia. Sei giorni, per carità, quindi una gita lunga per una classe quinta. Però 800 euro per una famiglia effettivamente è un bilancio onestamente eccessivo. Riecco la stanza rosa. Dà bellezza e forza alle malate di tumore. Io su questo voglio concentrarmi un attimo perché è una bella notizia, un'importante notizia. Eccola qua. 150 oltre i pazienti sono state accolte nella Pink Room fino a prima della pandemia. Oltre un'età mediana di 54 anni con un range molto variabile dai 28 agli 85 anni. Quindi un servizio utile a tutte le età e per tutte le donne. Alcuni dati perché abbiamo analizzato anche per cercare di far tesoro dell'esperienza e promuoverla ancora meglio per questa nuova ripresa, rinnovata ripresa. 50% delle donne erano in pre-menopausa, 50% in post-menopausa a testimonianza di quanto siano opportunità utili per le donne più e meno giovani. E nel 57% dei casi l'attività era di ordine del sanitario, la rimanente parte di ordine integrativo al percorso delle cure. Dopo una pausa forzata a causa della pandemia, la Pink Room nella clinica oncologica dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche riprende e potenza le sue attività grazie ad un accordo con la CNA Impresa Donna e CNA Marche che metterà a disposizione professioniste, estetiste e del stylist certificate del settore. La stanza Rosa è uno spazio dedicato al benessere delle donne che seguono un percorso oncologico, non un ambulatorio, ma un tempo e uno spazio di cura speciali. La nostra Pink Room è una Pink Room speciale perché fornisce alle pazienti sia attività di ordine sanitario, quindi visite gratuite, consulenze senologiche, visite e consulenze di genetica oncologica e tutto ciò che può servire alla donna nel suo percorso di cura e di guarigione, ma naturalmente anche tutto quello che è importante in una visione olistica, completa, globale della presa in carico delle pazienti. L'impatto della pandemia ha il riflesso sulle lunghe liste d'attesa per gli screening oncologici, una falla cronica nella sanità che si fa fatica a recuperare, tempi che superano di gran lunga i termini previsti e che di fatto minano la fondamentale operazione di prevenzione. Un esempio, la rilevazione della Regione Marche nel mese di gennaio ha calcolato che per una mammografia ci vogliono fino a 228 giorni. Quello che c'è da recuperare onestamente sono gli esami che sono in qualche modo saltati a causa della pandemia e mi riferisco ovviamente agli screening, perché sappiamo bene che è molto importante cercare di non ammalarsi o fare una diagnosi precoce e qui certamente c'è ancora tanto da fare, ma ancora tanto da fare anche in termini educazionali. Grazie. Abbiamo raccontato in questi giorni di quanti comuni purtroppo arretrino sul fronte della raccolta differenziata, invece Macerata come capoluogo sta riuscendo in questo obiettivo. capoluogo sopra la media provinciale, invece Civitanova arranca, nuova discarica, ancora tutto fermo, crescono i timori per il possibile aumento delle tariffe. Sul fronte dell'aumento delle tariffe abbiamo ricordato ad Ascoli la CIP, Ascoli e non solo i comuni serviti dalla CIP che avranno questo aumento. Preteste contro lo sballo alla guida, allarme incidenti, vigili con gli etilometri per la prevenzione, per evitare che la, soprattutto gioventù, parta per una sera di festa e di riposo e poi si ritrovi a dover vivere un incidente stradale. La vicenda di Cronaca da Recanati, stalking alla figlia, quindi perseguitava la sua stessa figlia perché frequentava un giovane italiano. Nei guai finisce una sessantenne dell'est Europa che non voleva che la figlia si fidanzasse con un italiano. Ancora, concluso lo studio sulle faglie attive, rientra l'allarme. Questo sembra un dettaglio ma è molto importante perché con il dramma, passata più di una settimana oramai, di Turchia e Siria, la preoccupazione fisiologica per tutti era, ok, ma adesso che lì c'è stato questo terremoto immane, cosa potrebbe accadere come effetto, anche effetto cerchi concentrici, diciamo così, sulle nostre faglie, sulle nostre zone. Concluso lo studio, rientra l'allarme. Per il momento non sono previsti o comunque non sono prevedibili terremoti pesanti. Occupazione, elettricisti e muratori introvabili. Ne abbiamo parlato anche ieri con l'imprenditore Paolo Laface, si occupa di ristrutturazioni, di costruzioni edilizie e ci raccontava come effettivamente sia difficile convincere un giovane oggi a intraprendere il percorso di elettricista, di muratore che non significa semplicemente la bassa manovalanza. Ti può poi portare ad una costituzione di una piccola azienda e poi, perché no, mettere su dipendenti, insomma, non è detto che un elettricista nasca e muoia come un operaio semplice, al netto che non ci sarebbe nulla di male, anche perché un mestiere onesto, serio, insomma, niente male, davvero. E spesso in termini di paghe guadagna più un elettricista e un muratore che una professionista, un classico colletto bianco o colletto azzurro, che dir si voglia. Io ho raccontato tante volte che c'era lungo la mia via, e non è una leggenda, è vero, un professionista di questo settore, non dico se elettricista, muratore o idraulico, che ci aveva la Ferrari, per dire. Quindi non è proprio un mestiere di bassa lena. Vi ricordo che Pesaro, a proposito invece, per parcondicio sulle categorie, assume, abbiamo parlato di muratori e di idraulici, la provincia, pardon, non il comune di Pesaro, ma la provincia di Pesaro assume ingegneri e architetti per portare avanti cinque progetti legati ai fondi PNRR. Andiamo sui giornali nazionali. Ho sfogliato poco, devo dire oggi, i giornali del nostro paese, giusto per capire che aria tiri intorno a noi. E allora Berlusconi, la notizia di ieri sera, immagino l'abbiate già sentita, Berlusconi è stato assolto nel processo Rubiter. Riassumere questa vicenda è un po' complicato, un po' complesso. Il processo Rubi, sia il primo stralcio che il secondo, che il terzo, in questo caso Rubiter, riguarda le famose cene ad Arcore, dove si stava insieme con dei professionisti, con delle figure a livello nazionale. Poi c'erano tante ragazze che cenavano con questi professionisti, alla fine di queste cene si ballava, si divertiva e in alcune stanze, che cosa succedeva? Poteva succedere quello che vedevo fare il disegno, insomma, tra adulti, a patto che siano adulti, appunto, può succedere anche questo senza reati di sorta. Infatti non ci sono reati. Secondo il giudice, il processo Rubiter in particolare riguardava la presunta corruzione di Berlusconi a queste ragazze perché non dicessero la verità rispetto a quello che pare succedesse dentro le stanze di Arcore. Che cosa ne pensate? Apriti cielo, in molti hanno commentato questa notizia anche a livello nazionale. Al processo Rubi le ragazze di via Olgettina, Carima, regala il suo libro alla PM siciliano che ha condotto le indagini, terminate poi con una assoluzione. È questa giudicata la notizia più importante del giorno dal Corriere della Sera. Sul meteo c'è per fortuna poco da dire, nel senso che da oggi a domenica la situazione sarà praticamente la stessa. Nubi sparse qua e là e temperature minime bassine, massime ampiamente sopra i 12, 13, 14 gradi. Quindi rispetto a chi mi sta scrivendo, effettivamente anch'io ho un po' di reazioni allergiche è dovuto tutto questo alle temperature di metà giornata che sono molto molto elevate. Mi devo fermare, giusto il tempo però per recuperare un paio di messaggi perché ci tengo a farvi partecipare. Siamo a Sigillo di Perugia, giovedì grasso, ancora croccante come dice il bravissimo giornalista. Saluti da Pierluigi, il solito Umbro a Corridonia. Ho rivolto una preghiera alla redazione ma la casella mail è piena e può capitare. Grazie intanto per questa bellissima immagine. Siamo a metà con il cuore tra Perugia e le Marche, guardate che meraviglia. Non lasciamoci abituare alla bellezza, continuiamo a ricercarla. Giusto il tempo per chiudere e salutare questa parte di programma con 5 notizie per 5 province. Tanta preoccupazione nel Pesarese per lo sbarco del 5G. Sei gestori chiedono ben 46 antenne. La figlia è fidanzata con un italiano. Il padre non vuole e la perseguita viene condannato. Succede a macerata. L'anziana strattonata è derubata al piano. Un bottino da 800 euro anche qui bandito condannato. Grazie alla giustizia italiana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.